Il bagnino del bagno Emilia Il bagnino del bagno Emilia Il bagnino del bagno Emilia Cioè dalla prima fila si è andato ora. Ma le tende là su, gli è arrivata l'acqua. Non c'è vento! Ma questa sta facendo una barriera anti-ond. E' stanza! Anti-ond. Siamo sicuri che sappiamo che non sia sporcizia che sporca il mare. Se viene da sporco il lato, lo faccio pulire, eh! Ma noi bagnieri c'è un po' di... C'è il confine, ragazzi. Come passa... Sapete quando il bagnante va dalla parte a un po' di... Non c'è vento! La situazione più pericolosa comunque rimane sempre al Palmo. Sono a Palmo mare, ecco la c'è. Bagno dove c'è il poste caldo. E là sta le barriera. Però, Attilio non scherza, però è la verità. Perché Attilio è stato. Ma c'è una bella salita. Palmo. Bagno, Attilio, Emilia e Rocchi Levante. Questa è la nostra base. Diciamo, noi siamo andati abbastanza a tutto quest'anno. Una mareggiata peggiore ce l'ha fatta una. Infatti siamo arrivati, la prima fila era... Guarda la giunta. Guarda, guardate il danno che ha fatto. Guarda, guarda, guardate il danno che... Guarda, guarda, guarda! una più avanti, l'abbiamo tolta tutta, siamo tornati insieme, siamo rimasti con quelli due figli. Va beh signori e signori, un saluto dal mare, un saluto il mio amico e il mio amico, il collega di Simone, adesso è Simone, signori da Franco, la sei tutto, passi per ora. Questo ragazzo qui è peggio l'embrugno nel sedere, ce l'ho sempre qua, quello che è stato, quello che è stato, fortunato, adesso la carriola non va bene, sei che è stato fortunato, tra stagione e torsione, io sempre con me, e se hai fatto a giovedere, l'agosto, c'è un po' alternante, non lo sopporto più, l'agosto mi licenziamo, l'agosto mi licenziamo e se stai ancora riprendendo, questi sono gli extra, tra i bagnini, ecco. Stiamo a lavorare, e è tutta l'estate che loro sono presi. Perché loro sono due bagnini di là, qui qua. No, qua sono i bagnini. Non fanno un bagno. Un bagno, non lo fanno. Stai cercando qualcosa di pirata. Non fanno un bagno, non fanno un bagno, non fanno un bagno. Esatto, ma non fanno un bagno, non fanno un bagno. Poi c'è stata tutta la schiuma, vedete è rimasta ancora la schiuma. È andato il paranoia che vedete il mare col tipo di schiuma. Grazie a tutti.